Spiega un po' come funziona tutto il mercato. Allora, qui noi vendiamo qualsiasi cosa che noi si ritenga possa essere vendibile. Vendiamo di tutto, dagli elettrodomestici, agli articoli per la casa, all'oggettistica, le porcellane, orologi, borse, abbigliamento, libri, dischi, cd, ci riportano i privati, a volte anche dei negozi che stanno chiudendo magari per recuperare qualcosa. Noi gli diamo un valore, alla vendita paghiamo la persona e gli diamo quanto ho paguito, meno la nostra profigione, ovviamente noi non siamo più per la gloria. Ha avuto un successone, noi siamo aperti due anni, da gennaio è il terzo anno che stiamo lavorando, abbiamo raddoppiato il fatturato, quindi in tempi di crisi la cosa non è ammalaccio. Quindi comunque l'usato vale? Sì, l'usato va perché tutto quanto è inutile per me può diventare utile per lei, capito? Quindi io magari ho una caffettiera vintage, che ho parcheggiato in soffitta, magari c'è il collezionista, viene qui e la trova, capito? Tirare un elettrodomestico, una, non so, con le camerette, ci pensate voi? Ah ecco sì, a riguardo appunto abbiamo una dita di trasporti che si occupa di quello, che è associata a noi, è pratica, è economica. Immettiamo che io abbia dei capi di abbigliamento da portare? Sì, nella sera devono essere lavati e stirati, che li selezioniamo insieme e le diamo una ricevuta anche. Rimandano esposti per tre mesi, due mesi a prezzo pieno e un mese in sconto. Dopo tre mesi, quello che non è stato venduto, o ve lo riprendete, oppure noi lo diamo in beneficenza. Abbiamo varie associazioni, abbiamo i padri son maschi, l'opera Villareggia, poi abbiamo i diritti, tutte cose belline, decorose, che in una casa, se uno non ha troppe pentese, fanno la loro bella figura.